Avevo bene in mente di cosa avrei voluto fare da grande all'epoca della mia terza superiore e quindi già lì avevo deciso che avrei frequentato l'ISEF, all'epoca si chiamava ISEF e quindi già le superiori gli ultimi due tre anni erano già come dire indirizzati mentalmente verso questo futuro che avrei voluto intraprendere non tanto come insegnante di educazione fisica ma avevo già abbastanza le idee chiare su cosa avrei voluto fare nel mio futuro. La passione c'era, è scoccata nel momento in cui ho capito che non avrei potuto fare il calciatore professionista perché ero scarso e allora dicevo appunto come poter continuare a frequentare questo ambiente che mi piace così tanto e quindi ho cominciato nei settori giovanili a fare l'allenatore di primi calci, esordienti e quant'altro e poi abbastanza presto subito con i primi anni dell'ISEF ho cominciato a seguire una squadra di dilettanti del mio paese, la poggese, partendo dalla promozione e si è arrivati al professionismo. È stata una grande palestra ovviamente quando si frequentano quelle categorie lì ci si deve anche arrangiare, ci si deve mettere molta passione, molta inventiva, fantasia perché non è un mondo professionistico a tutti gli effetti anche se ripeto con l'andare del tempo le categorie scalavano ma la realtà era sempre quella quindi cresceva il livello ma c'era sempre una bella palestra da portare da portare avanti. Alla fine degli anni 90 99 2000 io approdo al settore giovanile del Bologna come appunto preparatore del settore giovanile c'era all'epoca un progetto molto particolare che ha avuto anche un buon successo grazie al direttore Cinquini all'epoca che appunto cominciò a inserire dei preparatori anche nel settore giovanile. Adesso sembra normale ma stiamo parlando di 20 e più anni fa e quindi c'era un progetto particolare per come dire allevare, crescere questi giocatori, queste nuove leve ed io ho conosciuto Stefano ed è cominciato da lì il nostro rapporto professionale che va avanti tuttora a distanza di 20 anni. Siamo cresciuti assieme ognuno nei suoi ambiti ma molto spesso come dire le strade si si incrociano perché è un rapporto fatto non solo di facciamo questo facciamo quello ma c'è un discorso come dire a 360 gradi. Il mister è molto attento molto preparato a volte vede cose che noi preparatori magari non riusciamo neanche a vedere ma con l'occhio dell'allenatore oltre che con le sue competenze ci dà anche degli spunti interessanti perché noi siamo un po' come dire figli dei numeri e tante volte nei numeri non c'è tutta la verità e quindi la sensibilità all'occhio del mister oltre che la sua competenza ci smusse ci aiuta a scegliere al meglio le nostre programmazioni e quant'altro. Diventa sempre più importante la collaborazione e instaurare un buon feeling anche con tutte le strutture che ci supportano e ci consigliano nel nostro lavoro dall'area medica dall'area fisioterapica strettamente dagli altri collaboratori che noi abbiamo oltre essere preparatori in capo abbiamo anche degli altri collaboratori quindi è un lavoro d'equip che si sviluppa giorno per giorno attraverso riunioni ovviamente programmate ma anche tanto scambio di opinioni a fine allenamento durante l'allenamento noi guardiamo no l'allenamento perché l'allenamento in sé i protagonisti sono il mister e i giocatori noi siamo lì a bordo campo e quello è un momento fondamentale di condivisione di scambio di opinioni perché i nostri occhi vedono cose i dottori ne vedono altri fisioterapisti ne vedono altri quindi quello secondo me con l'esperienza ho imparato che è un momento molto importante l'idea di base della gestione del lockdown del post lockdown è stata del mister da subito appuntato a quel tipo di gestione che ve l'ha spiegata e quant'altro e che è ben conosciuto ormai quindi noi ci siamo accodati e l'abbiamo accolta ben volentieri è stato una felice decisione che ha portato dei frutti tangibili a tutti a tutti gli effetti quindi quella qualità del tempo è stata veramente alta nel senso che abbiamo passato del tempo con i ragazzi in una situazione che non sapevamo bene dove avrebbe portato che però abbiamo capito da subito che i ragazzi ci avrebbero seguito in questa in questa avventura che è stata per tutti una novità e quindi abbiamo fatto di necessità virtù e da una buona idea può succedere qualcosa di di ancora più bello ma può anche succedere qualcosa che non vada per il verso giusto quindi è da coltivare da coltivare giorno per giorno perché si fanno delle previsioni si stilano dei programmi ovviamente in anticipo perché si deve avere un piano che però va giorno per giorno limato riconsiderato riaggiornato e quindi è fondamentale il day by day perché la stagione è lunghissima quindi aver lavorato bene d'estate non può garantire una stagione intera le caratteristiche di giocatore di atleta in questo caso specifico non possono essere cambiate quindi siamo consapevoli e consci che dobbiamo accompagnare nello sviluppo delle loro potenzialità e cercare di limitarli nelle loro problematiche quindi il grosso del lavoro deve essere fatto in anticipo prima dell'allenamento dopo il lavoro sul campo è calcio e come tale deve essere deve essere svolto ma le loro qualità sono intrinseche perché ognuno nasce con un corredo con un bagaglio genetico che dipende da migliaia di fattori quindi sarebbe un po' utopistico pensare che noi abbiamo quella bacchetta magica di poterli cambiare discorso un po' diverso sui soggetti un po' più giovani dove si devono formare ma lì andiamo a insegnare forse anche una professionalità una consapevolezza delle loro problematiche delle loro qualità e quindi invitarli a lavorare perché hanno tanta strada da fare per migliorare e per sviluppare al massimo le loro potenzialità ma di lì non si scappa sono rimasto a bocca aperta dal posto dalla struttura dalla storia che si respira mi hanno fatto notare il busto del mister mi hanno fatto notare la sala dei trofei con tutte queste foto incredibili si respira la storia del calcio ed è così chi non chi non è passato non può capire appunto fare parte della famiglia del milan è qualcosa di speciale che non ho sentito da nessun'altra parte nelle nostre esperienze precedenti non sembra che sono passati ormai quasi vent'anni di carriera vuol dire che la passione fuoco c'è dentro noi arriviamo presto alla mattina e siamo sempre gli ultimi andare via proprio perché ci godiamo tutto del nostro lavoro sia la fase pratica attiva di campo che la fase di di riconsiderazione del lavoro ma ci fermiamo anche per fare un po di attività e quindi ci coinvolge veramente a 360 gradi sotto tutti gli aspetti quindi non ci siamo certamente stancati per nulla quando si sogna bisogna sognare in grande io in realtà sognavo di giocare a calcio poi vista la mancanza di capacità tecniche sufficienti ho dirottato la mia passione verso lo studio devo dire che arrivare al milan che io vedevo da ragazzo che era il milan dei baresi dei maldini che era un milan incredibile forse era al di sopra delle mie aspettative il fatto di essere qui in questo momento mi riempie veramente d'orgoglio ho avuto la possibilità di iniziare a lavorare a treviso prima con il settore giovanile poi con la prima squadra ho ricordi bellissimi di quell'esperienza perché appunto come tutte le prime esperienze ti segnano profondamente proprio nel momento che ha preceduto l'arrivo di stefano fioli qui al milan diciamo che il loro staff di preparatori ha perso un'unità e nella ricerca di una nuova figura professionale matteo osti ha visto in me la persona che poteva integrare le carenze che c'erano in quel momento o comunque le assenze che c'erano in quel momento sono tutti straordinari atleti e professionisti esemplari per noi che stiamo dietro le quinte è ancor più soddisfacente il fatto che questi atleti si mettano con grande professionalità lo voglio sottolineare a nostra disposizione per cercare di migliorare quelle che sono le loro qualità purtroppo nel calcio accadono gli infortuni e quando accadono bisogna che venga seguita una filiera ben precisa una serie di step che vanno dall'ambito medico prima all'ambito fisioterapico al ritorno al campo ritorno al gioco al return to play come si dice questa filiera prevede nella sua parte finale esattamente la ri-atletizzazione quindi il riportare l'atleta a svolgere nel modo più adeguato possibile la sua capacità di percorso oltre alla mia presenza e a quella di matteo che coordina essendo il preparatore che lavora da più tempo con il mister il lavoro di tutti sono presenti anche filippo nardi che si occupa dell'analisi dei dati che vengono recuperati quotidianamente attraverso l'utilizzo della piattaforma gps e poi abbiamo anche Gabriele Massucci che in particolare mi dà una mano in tutti i lavori di palestra nel pre e nel post allenamento nei lavori di recovery nel post allenamento e nel post gara siamo una squadra molto affiatata la tecnologia ci dà un supporto importante perché ormai ci sono tantissimi strumenti che permettono di analizzare la prestazione dell'atleta si fanno delle mini riunioni nei mini briefing nel pre allenamento valutando le informazioni che la tecnologia ci mette a disposizione per poi capire se le proposte successive sono adeguate oppure se devono essere modificate a seconda delle esigenze viviamo Milanello dalla mattina alla sera senza risparmiarci e questo contribuisce a creare una forte unione tra di noi grazie